Questa è una vittoria importantissima, quasi straordinaria, perché sembrava il Verona in difficoltà, dal suo avvento invece è cambiata la marcia. Sì, sono contento, insomma, perché quando sono arrivato io c'era addirittura la possibilità di rimanere esclusi dai play-off, adesso ci ritroviamo in finale, quindi ce la possiamo giocare alla grande. È chiaro che tutto questo sarà davvero un'impresa se riusciremo a portare a casa la promozione. Detto questo faccio complimenti veramente al Pescara perché ha fatto un grande campionato, un'ottima squadra guidata da un allenatore bravo, preparato, un'ottima persona che conosco personalmente e quindi vale ancora di più questa vittoria. Non solo scossone psicologico, come si dice in questi casi, ma Aglietti ci ha messo del suo anche dal punto di vista tattico, perché abbiamo visto un Verona che verticalizza di più, che è più incisivo e i frutti si sono visti. Sì, mi fa piacere che lo dica perché a volte si parla solo dell'aspetto psicologico, ma io penso che di aver dato qualcosa, insomma. Poi il tutto deve essere condito dalla disponibilità dei calciatori, quando credono nelle cose che tu proponi tutto viene più semplice e io ho trovato grande disponibilità da questi ragazzi. Stasera, insomma, abbiamo questa gioia perché comunque è una gioia perché vincere qui non era assolutamente facile e soprattutto l'abbiamo fatto mantenendo sempre lucida. L'ultima Verona favorito a questo punto sul Cittadino. Ma non è detto perché comunque loro hanno vinto prima Spezia e poi Benevento, sono una squadra a prendere con le molle.